Noi supereremo le 200 imbarcazioni sia a terra che in acqua e oltre 150 espositori. Nota importante quest'anno il progetto della formazione, grazie all'assessorato regionale a Sebastiano Leo e alla dottoressa Monica Calzetta che ci ha supportato in questa nostra iniziativa perché da qui deve partire un messaggio forte. La nautica può rappresentare per lo sviluppo del territorio e le nuove professionalità una meta importante. Noi su questo lavoreremo durante il Salone con una serie di conferenze e anche di orientamento per cui questa è la grande novità di quest'anno. Le prospettive di sviluppo per il settore? Il settore continua a crescere in maniera esponenziale. Dopo pandemia credo che sia il settore che è cresciuto più di tutti. Questo comporta sicuramente la necessità di avere personale qualificato che è l'argomento che discuteremo durante i giorni del Salone. Poi l'insediamento di Ferretti nei prossimi anni su Taranto comporterà naturalmente un posizionamento della regione Puglia su questo settore molto forte per cui dobbiamo continuare a crederci e far emergere tutte quelle che sono le nostre potenzialità.